Canale 58, nell'ambito della manifestazione Irpino dell'Anno, ha premiato con una menzione speciale la ricercatrice Michela Garofalo, originaria di Lioni per i suoi studi sui tumori. La motivazione è la seguente. A Michela Garofalo, per le sue doti di ricercatrice che tengono alto negli Stati Uniti ed America il nome del nostro paese e della terra irpina. Ha sentito la motivazione? Sì, adesso l'ho sentita. È soddisfatta? Sì, grazie. Io veramente sono senza parole. Infatti quando mio padre mi ha riferito questa cosa sono rimasta un po' interdetta. Sono veramente onorata e ringrazio tutti veramente di cuore. Avremmo voluto averla fra noi, ma non è stato possibile. Lo so, anche a me avrebbe fatto molto piacere, insomma, ma purtroppo è impossibile perché sto aspettando il nuovo visto e quindi non posso uscire dagli Stati Uniti fin quando non mi rilasciano. Sì, è una questione di visto, lo sappiamo. Sì, è una questione di visto, sì. Da quanti anni studia i tumori? Sono quasi dieci anni, da quando mi sono laureata. Dove sei laureata? Mi sono laureata alla Federico II a Napoli nel lontano 2002. Quindi ho cominciato con un periodo di tesi nel 2000-2001 e da allora ho sempre lavorato per la cura dei tumori del polmone, del fegato e del seno. Senta, lei ha studiato i meccanismi di resistenza delle cellule tumorali alla chemioterapia e i meccanismi responsabili della crescita e della formazione di metastasi purtroppo nel calcinoma polmonare e nel cancro epatico. Quali sono le acquisizioni scientifiche? Le acquisizioni scientifiche sono importanti perché abbiamo individuato per la prima volta delle proteine che quando vengono da un regolate sono capaci di portare una maggiore sensibilità ai chemioterapici e in questo modo molti tumori potrebbero in futuro essere debellati. È vero che questi RNA sono i fattori scatenanti del tumore? Sì, noi siamo controllati da questi piccoli RNA. Molti meccanismi nell'uomo come tumori, sopravvivenza, proliferazione cellulare sono controllati da questi piccoli RNA e molte proteine coinvolte nel cancro sono sotto il loro stretto controllo. Quindi controllando questi RNA è possibile controllare i tumori. È vero che c'è già in via di sviluppo una cura che mira l'eliminazione di questi RNA dalle cellule cancerogene polmonarie ed epatiche in modo da rendere sensibile questa neoplasia alla chemioterapia? Sì, è vero. Sono cominciati degli studi sui topi e sui primati che mirano proprio ad eliminare questi RNA e a fare in modo che le cellule tumorali diventino più sensibili ai chemioterapici. Adesso a che sta lavorando? Adesso sto lavorando sempre sul tumore del polmone e sto analizzando la resistenza ad un altro farmaco attualmente comunemente utilizzato nella cura del tumore polmonare che è il gefidinib e abbiamo avuto altre interessanti osservazioni e scoperte che spero saranno pubblicate prima possibile. Chi è il suo maestro? Il mio maestro è il dottor Carlo Maria Croce che mi ha accolto qui negli Stati Uniti cinque anni fa e con lui sono cresciuta in questo laboratorio, ho imparato tante cose, nuove tecniche di biologia molecolare e tanto altro. Quindi io veramente sono grata al dottor Croce per quanto ho ricevuto in questi anni. Senta dottoressa, la sua è forse una storia comune a tanti cervelli italiani. La fuga verso l'estero è così? Purtroppo sì perché in Italia non ci sono le risorse necessarie per fare questo tipo di lavoro. È brutto da dirsi ma purtroppo è la verità. Quando vai in un posto che ti dà l'opportunità di creare e di esprimerti come vuoi allora è tutto diverso. Gli Stati Uniti sono uno di questi paesi. Pensa di ritornare in Italia? Ma per il momento non credo, no, penso proprio di no. Certo se le cose in un futuro non molto lontano dovessero cambiare probabilmente potrei ritornare. Ma per fare questo lavoro bisogna andare via. Ma Lioni non le porta nostalgia? Eh, Lioni mi porta tanta nostalgia della mia famiglia, dei miei amici, anche dei posti comuni che ho vissuto. Però purtroppo la passione per questo lavoro è veramente forte. Quindi è quello che voglio fare e per farlo non posso rimanere in Italia. Dove si trova attualmente? Io vivo a Columbus, che è la capitale dell'Ohio. Stai in un laboratorio? Sì, sì, sì. Attualmente sono in un laboratorio perché qui sono le tre e mezza di pomeriggio. Ci sono sei ore di differenza con l'Italia, quindi sono nel pieno della mia giornata lavorativa. Senta, da dove verrà la chiave della sconfitta del cancro? Dalla virologia molecolare, dalla genetica o dalla immunologia? Ma io penso dall'insieme delle tre cose. Probabilmente forse la genetica potrebbe aiutarci più delle altre due perché in realtà alla base del cancro ci sono geni e proteine che potrebbero veramente svolgere un ruolo fondamentale. Quindi probabilmente da questo. Però credo che tutte e tre insieme possano dare ottimi risultati. A che punto siamo per la lotta contro la malabestia? Ma comunque sono stati fatti tantissimi passi in avanti e molte delle malattie che fino a dieci anni fa si pensavano incurabili sono più facilmente curabili. Quindi i passi avanti sono stati fatti e secondo me si tratta a questo punto di passare dalla ricerca di base alla clinica applicata. Una volta testati i farmaci sui pazienti, insomma sull'uomo, il passo dovrebbe essere veramente breve. A uno scienziato e a uno studioso non si chiede di far previsioni, ma io la forzo un po'. Azzardi una previsione. Quanto tempo ci vorrà ancora per sconfiggere il cancro? Ma io voglio essere ottimista e dico che in 15-20 anni probabilmente saremo già a un buon 90% dei tumori sarà stato debellato. Dottoressa la ringrazio moltissimo. Insieme con il regista Francesco Lignite le faccio i migliori auguri di buon anno, di feconda attività e tenga sempre alto il nome di Lioni e dell'Irpinia. Canale 58 torna a felicitarsi con lei. Buonasera. Grazie mille, grazie a tutti e buon anno. Grazie. Buonasera.